dimagrisco dimagrisco io dimagrisco 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 oggi dimagrisco ma sono dieci minuti che ripeto che oggi dimagrisco e ancora non è successo niente questa cosa di dimagrire col pensiero positivo secondo me è una gran crostata no quella era una gran crostata prima che finisse dai guardiamo insieme il mio video che forse è meglio ciao amici come vi avevo anticipato oggi voglio rivelarvi gli effetti straordinari del pensiero positivo per dimagrire ma che quello della scenetta non mi sembra che funzioni molto quello non è il pensiero positivo che fa dimagrire non ci sono formule magiche che fanno sparire i chili di troppo così lo sappiamo tutti però sapete una cosa il pensiero positivo e il dimagrimento sono come staglio e olio vanno sempre insieme in 30 anni di professione naturopatica ho aiutato centinaia e centinaia di persone a dimagrire e ho imparato una cosa dall'esperienza quando qualcuno mi dice le ho provate tutte ma non riesco a dimagrire i motivi possono essere due o ci sono situazioni fisiche particolari e allora bisogna indagare e spesso serve la medicina oppure due il suo modo di pensare gli impedisce di dimagrire adesso voglio che ascoltiate bene queste frasi che sicuramente per molti di voi non sono nuove anche se sto a dieta e dimagrisco poi riprendo subito peso ma io sono diversa da te simona non posso dimagrire io ho voglia di dolci perché mi fanno stare bene non ho tempo di fare esercizio fisico sono troppo stanca per fare ginnastica non ce la faccio ma il mio metabolismo è bloccato quando mangio grassi mi sento in colpa ma non posso mai pensare mai devo sempre pensare agli altri ve ne siete mai dette qualcuna di queste frasi avete idea di quante volte io me le sia sentite dire dalle persone infinite sono le tipiche frasi di chi non perde peso così a un certo punto mi sono detta ma non non sarà che chi proprio non perde peso magari si autocondiziona con queste affermazioni autosabotanti io credo che queste siano delle credenze limitanti che lavorano nell'inconscio e alla fine in qualche modo giustificano o alimentano il sovrappeso ma non solo queste frasi negative che ci ripetiamo creano emozioni negative e rafforzano il meccanismo fisico di trattenere e anche aumentare il grasso immaginate ora un dialogo positivo che sostiene invece di contrastare l'impegno per dimagrire sembra facile a dirsi ma come si fa esistono diversi modi ma quello più facile che voglio condividere oggi è semplice bisogna prendere i pensieri negativi e girarli in positivo con una tecnica simile a quella che spiego in dettaglio in questo video sul pensiero positivo a ogni frase negativa che ci ripetiamo che poi sono sempre le stesse bisogna contrapporre una frase positiva usate regolarmente queste affermazioni positive fanno provare emozioni positive che aumentano il senso di benessere e rafforzano la motivazione a perdere peso questo porta a un comportamento alimentare più sano fondamentale per il dimagrimento ecco come trasformare i pensieri negativi autosabotanti in pensieri e affermazioni positive prendiamo la frase anche se sto a dieta e dimagrisco poi riprendo subito peso come può diventare così seguo un'alimentazione sana e mantengo facilmente il mio peso questo dobbiamo dirci questo è un esempio chissà quante frasi ci ripetiamo anzi scrivetemi le vostre frasi negative ricorrenti nei commenti e scrivete come potreste girarle in positivo scriverle vi aiuterà a essere più forti e meno condizionati comunque nell'info box qui sotto trovate il link a un ebook gratuito con le risposte ai tipici pensieri negativi di chi non riesce a dimagrire con le risposte già pronte con questa tecnica potrete trasformare ogni pensiero ingrassante in un pensiero positivo ognuno con le sue varianti personali mi raccomando però perché il pensiero positivo per dimagrire sia positivo bisogna seguire un metodo come sempre ora ve lo spiego ma prima mettete un bel mi piace a questo video tanti mi piace tanti nuovi video e per tanti altri video sulla salute naturale e la crescita personale iscrivetevi al canale basta un clic così e attivate le notifiche bene ecco il metodo per stabilizzare il pensiero positivo per dimagrire è facile bisogna seguire questi quattro passi 1 bisogna individuare i pensieri negativi che ci ripetiamo nella nostra testa sul peso eccone 1 2 quando compare una frase negativa nei pensieri o nelle parole diciamo ferma lì 3 trasformiamo i pensieri e le frasi negative ribaltandole subito in frasi positive e motivanti ribaltata 4 ricordarsi di ripeterle spesso magari scriverle su un post it e appiccicarle in giro fatto bene a questa nuova abitudine interiore aggiungetene un'altra esteriore per rafforzarla smettete di lamentarvi del peso e sorridete con voi stessi e con gli altri e se vi chiedono cos'è cambiato fategli vedere questo video è come promemoria per voi scrivete le vostre frasi positive e appiccicatele dove in bagno vicino allo specchio così le potrete leggere ogni mattina e ogni sera condividete questo video sui vostri social e diventate anche voi portatori sani di salute sarete di aiuto a molti e noi ci vediamo al prossimo video naturalmente ciao mettete un mi piace bisogna